Passiamo ai segni d'acqua, partendo dal segno del cancro. Agosto sarà un mese tranquillo, sereno, pigro, in compagnia di persone di amicizie simpatiche, divertenti, un mese caldo, con sorprese interessanti nella parte finale del mese. Passiamo al segno dello scorpione, ponderazione, calma, vi aiuteranno a superare l'inizio del mese abbastanza fastidioso e ingueto, nervoso, lentamente ritornerà il sereno, forza, energie e voglia di vivere prenderanno il sopravvento, occasioni lavorative interessanti. E concludiamo con il segno dei pesci. Non esagerare nell'abusare delle vostre energie, specialmente nel settore lavorativo. Il rischio che correte, i rischi che correte, sono insoddisfazioni con relative inquietudini. Un mese particolarmente nervoso, anche in amore, nei rapporti umani. Rischiate di revare a fine mese spremuti come un limone. Riposate il più possibile.